ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video che che riccio come state spero bene dunque questo è un video che riccio per parlare un po con voi ma anche per sfogarmi con voi visto che questi giorni non ho più fatto questo video cioè l'ho fatto ma in maniera diversa e meno incisiva non so neanche cosa dire però vabbè e niente stavolta questo video è un video in 4k se non l'avete ancora visto vabbè link a loro che parte in più in più sfaccettature non lo so come vabbè oggi siamo stata la spesa mia onna e ho fatto il video anche dei video sulla spesa con mia onna e despar e niente quindi se volete andate a vederlo anzi stasera dopo il video che fa che avete visto che ha fatto video del trucco pubblicherò direttamente il video sulla spesa questo per pubblica domani mattina perché volevo programmare quello anzi anche la verità con la sua spesa quando devo caricare perché non l'ho caricato ce l'ho caricato no che sto dicendo l'ho caricato ma dove ancora pubblicare perché l'ho programmato in privato invece no non è programmato per l'ora e mettere solo mettere in privato mentre programmare significa mettere la data l'ora eccetera io non ho fatto l'uno nell'altro quindi lo sono messo in privato si può programmare in tanti modi non in elenco o in privato io ho scelto in privato perché se programma le cose mi viene male perché da una parte si viene male dall'altra mi piacerebbe però se programma una cosa poi mi dimentico che l'ho programmata in una data sbagliata e mi da fastidio se sentite il rumore sottofondo il mio stomaco perché ho mangiato appena poco fa e quindi ho bevuto un caffè e ho mangiato un cioccolato insomma non sto qua a raccontarvi tutto ciò che ho mangiato perché non frega nulla a nessuno però volevo dirvi semplicemente che finalmente sto mangiando sano non mangiavo più come una volta che mangiavo pasticci non ho mai mangiato appasticciamento però un po sì perché quando ero più piccola ragazzi la mangiavo a mele in vino e cioccolati di più che le mette a parte le caramelle ma vabbè quello perché tutti l'abbiamo fatto penso nella nostra vita di mangiare schifezze pizze patatine eccetera ma vabbè e niente quindi che dire io adesso volevo fare un altro video inerente anche al mio modo di disegnare come disegno io ma non so come riuscire a portarlo quindi in qualche modo dovrò riuscire a mettere la telecamera in un modo che mi riesca a me non lo so vediamo anche perché sto registrando con l'iphone 7 quindi in qualche modo dovrebbe aiutarmi anche l'iphone a registrare in modo più più bello e niente mi sono vestita così come ho detto in questo istante vedete mi sono vestita così vabbè sotto c'è dei pantaleggings bianchi presi al mercato sempre nel mercato mercato di qualao e il resto questa qua mi è stata regalata me l'ha regalata mia madrina questa qua e niente mia madre di crisi ma ovviamente poi cos'altro dirvi la location come vedete sempre in camera mia perché vedrete perché ho fatto i video in camera perché ragazzi dove volete che vado fuori non mi piace darle troppo all'occhio vabbè dettagli e in casa sto meglio perché sono più al sicuro perché non voglio dire cose che non sono però vorrei farlo un video fuori serie da questa casa però il problema c'è vento a volte non c'è vento o c'è caldo appena sarà se riesco mi porto al mare con me vediamo se riesco a fare delle belle riprese non è detto perché magari la gente non si vuole riprendere ripresa quindi e mettere con conto a quello e niente allora dunque praticamente come dire vorrei fare riprese fatte al mare ma anche lì buona gente un po la stanchezza ma anche un po la voglia di svagarmi senza sempre stare col telefono ma si col telefono ma ci sto ma vediamo si vedrà tanti contenuti ve li vorrei portare perché mi piace fare contenuti anche per tiktok a proposito seguitemi anche su tiktok e su instagram ok niente e basta noi ci vediamo un prossimo video e perché no fatemi sapere con un commento qua sotto se il video vi è piaciuto un bacio e ciao